Grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questa sì che è musica amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. La partita è già cominciata. In queste prime fasi difendono con un baricentro molto basso. Sono quasi tutti dietro la linea della palla e lasciano l'iniziativa agli avversari. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca l'uomo là davanti. Ha portato scompiglio ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Sceglie il lancio lungo. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Libernian ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione. E cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. E trova bene il compagno. Buona occasione per Deulofeu. La situazione si era davvero complicata sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Brutta questa transizione Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male ma l'hanno sciupata. E passa! Prova ad andare via con eleganza. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. E qui è costretto a cedere il pallone. Porta inviolate, partiene in certa. Molto compagno. Lungo passaggio in avanti. Perez. Spinge cedendo il pallone lungo. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta e è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Non si tira indietro il conquista. Grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. La partita è già cominciata. In queste prime fasi difendono con un baricentro molto basso. Sono quasi tutti dietro la linea della palla e lasciano l'iniziativa agli avversari. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca l'uomo là davanti. Ha portato scompiglio ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Sceglie il lancio lungo. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Libernian ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione. E cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. E trova bene il compagno. Buona occasione per Deulofeu. La situazione si era davvero complicata. Sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Brutta questa transizione Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E passa! Prova ad andare via con eleganza. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. E qui è costretto a cedere il pallone. Porta inviolate, partiene in certa. Molto compagno. Lungo passaggio in avanti. Perez. Spinge, cedendo il pallone lungo. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta e è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Non si tira indietro il conquista. Grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. La partita è già cominciata. In queste prime fasi difendono con un baricentro molto basso. Sono quasi tutti dietro la linea della palla e lasciano l'iniziativa agli avversari. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca l'uomo là davanti. Ha portato scompiglio ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Sceglie il lancio lungo. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Libernian ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione. E cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. E trova bene il compagno. Buona occasione per Deulofeu. La situazione si era davvero complicata. Sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Brutta questa transizione Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E passa! Prova ad andare via con eleganza. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. E qui è costretto a cedere il pallone. Porta inviolate, partiene in certa. Molto compagno. Lungo passaggio in avanti. Perez. Spinge, cedendo il pallone lungo. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta. E' mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Non si dire indietro. E con questa...